Il top è science, quello che ha fatto science, non lo so, chi scriverà come me fra trent'anni scriverà di science a Singapore, quello che ha fatto è roba da leggenda, beh il flop è la Red Bull, lasciamo stare quel poverino di PNX. Io ripeto, dal punto di vista sportivo sono molto esaltato dal fatto che la Red Bull sia andata così male, ma sono molto curioso di capire che cosa ne sarà di questa squadra, ripeto, l'ennesima volta lo vedremo un momento. I flop sono stati senza altro loro, quindi la Red Bull in generale.